Allora, finito di andare a scuola, allora finito di andare a scuola, sia di andare con le caure, sia di andare a dargli da mangiare le vacche, sia di andare con le fe, sia di andare a mangiare il portale, sia di andare a portare le legne, perché la sera mi pare di portare le legne tutti, perché è una sorella e un fratello, mia sorella Adam e mio fratello Giuseppe. Allora, la sera si è da portare che da bere alle caure, portare sulle legne, portare dentro l'acqua, perché è un cì, la fontana è appena là, di fuori, ma voleva portarla dentro? Allora, si è da portare le legne, andare a restellare, a sapare, a dieci anni era buona a molder anche le vacche, perché ero un abituato, e neanche non si è ha paura, perché pure le bestie non le ti fanno, anzi, non le ti fanno niente, andavo magari all'interno della stalla, e anche montavo su per la schiena, e le erano buttate, dove le stelle. Questo le vecchie lo sentono i giovani, i giovani che adesso erano con il cellulare. Eh, adesso erano con il cellulare, ma allora non erano altri giochi. Non c'era niente la radio se non basta quel tempo, perché è la prima radio che portò là i pugnai all'era del 43. Ah, del 43, l'ingegnere delle moline Gadens, le venio i pugnai perché la dica è il feo, per far fare una centralina della luce. Il 3 di dicembre, beh, il 3, scusa, al 3 di settembre, i ha inaugurato la luce dentro dei pugnai, del 43. Prima corrente elettrica. La prima corrente elettrica, entro i pugnai, al 3 di settembre del 43. Che memoria, perdonassi. All'8, che era quando io fai l'armestizio che tutti dicevano finire la guerra, invece l'era quando è... Pelo ancora. L'era pedo ancora. Ma comunque, quella sera io fai una gran festa entro i pugnai. perché la prima volta che ti vedevi la luce, una luce che era una meraviglia. Una roba nuova. Una roba nuova. Però sta luce, anche un'altra, non la è un... Come si dice, non so se vuole un trasformatore. Ah, ok, ok. Alla sera, quando che tu ti asserai la luce, andai su la corrente, perché l'era una 220. Ok, ho capito. L'era, non l'era una 125 come che era qua in giro. Sì, sì. L'era una 220. Io volevo andare attorno a l'acqua, dove questa gabbina che era, allora sono restanti, detendere che l'era mi pare. Allora, la sera, tose, o altre indagatorie, l'acqua mi ha segnato, come che io da girare, la Manuela, che l'acqua non veniva segnato, fin là, perché loro la luce la stia bassa. Mi pare, perché la mattina, alle fine, che le vede su a guarnare le vacche, andò ad uomo, larghe acqua, a questa centralina. E per due o tre anni l'è stata questo lavoro, perché dopo lei ha comprato, mi pare, questa centralina, perché l'ingegnera lei ha venduto, dopo mi pare che l'ha venduto a altri. Che dopo questo, che lei ha comprato dopo, lei ha fatto il trasformato, che si discargueva la corrente di apparello, la tenta, sempre, senza prendere, sempre andato. E' perché lei ha avuto il navale, e alla sera, alle 10, dopo l'entrò, che le erano brutte, con un lampione. Con la lampada a carburo? No, con la lampada a petrolio. Ah, ok. E la lampada a petrolio, perché lei era quella che gli era per andare in te la stalla, a vedere la maniera, che lì, al diere, a serato. Con quella si andava. Mia mia sorella, alla sera, che magari era un lago nascone, ma ne toccava fare anche quello. Eh beh, è giusto. Grazie a tutti.